Si è aperto ieri pomeriggio all'auditorium Gaetano Saporito a San Cataldo la quinta edizione di Highlights in Neurology, congresso aperto a tutti i neurologi e a chi vuole approfondire di più in questo ramo medico. Presidente del congresso il dottore Michele Vecchio, nonché presidente della Società Italiana di Neurologia Sezione Sicilia. Congresso che si svolgerà fino a venerdì 25 novembre e si svolgerà in cinque sessioni sempre in auditorium. Presenti all'apertura del congresso il neossessore alla salute regione siciliana la dottoressa Giovanna Volo, il professore Giulio Maira, uno dei massimi esponenti della neurochirurgia internazionale, il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato, il direttore generale dell'ASP di Caltanissetta Alessandro Caltagirone, il direttore sanitario Marcella Santino. Io non ho trovato la sanità regionale perché la sanità regionale la conosco molto bene, quindi ho avuto la fortuna di lavorare in grandi strutture ospedaliere, in varie aziende sanitarie provinciali o sono andata in pensione appena due anni fa, quindi diciamo che conosco molto bene qual è la nostra realtà. Ne conosco i pregi e naturalmente ne conosco i limiti e i difetti. Ed è quello che ha dato l'origine alla volontà del Presidente Schifani di nominarmi. A questo punto il mio compito sarà quello di, insieme a tutti gli operatori, a tutto quello che sono le strutture sanitarie presenti nella nostra isola, di costruire delle basi nuove sulle quali dare poi modo a chiunque verrà dopo di continuare a lavorare e di lavorare al meglio. Abbiamo moltissimo da fare e comunque ci sono delle normative nazionali che se applicate anche nella nostra regione certamente ci produrranno dei benefici. Voglio precisare che l'esperienza della pandemia è un'esperienza dalla quale dobbiamo trarre molto insegnamento e grazie a quello sicuramente potremo trovare le soluzioni giuste a quello che sono in questo momento le coggenze delle nostre difficoltà. È un momento importante perché è un trasferimento di saperi che intervengono tra persone, cultori della nostra disciplina e noi che poi dobbiamo cercare di realizzarle e determinare la prossimità delle cure per i nostri cittadini, per i nostri pazienti. Siamo particolarmente orgogliosi in questa edizione di avere ospiti eccezionali primo fra tutti il professore Giulio Maira che tutto il mondo conosce il più grande neurochirurgo della storia vivente e che è voluto originario di San Cataldo e che è venuto con grandissimo piacere a presenziare i nostri lavori. Per noi è un piacere e un onore ospitare questo convegno di neurologia proprio qui a San Cataldo, proprio qui in questo splendido auditorium. È un onore perché vista l'alta levatura degli intervenuti, visto l'evento e devo dire che questo ancora una volta pone al centro della nostra provincia al centro della regione la nostra città.